Partenza con il botto dell'Anne Rossi e Vicenza, dopo la detressione in Serie B in Lega Pro. La squadra bianco-rossa, guidata dal tecnico Francesco Baldini, stende con un tennistico 6-1 la prosesto. Un chiaro avvertimento alla prossima sfidante, il Padova. Alla seconda giornata è già tempo di derby contro i biancoscudati, che all'esordio hanno perso 1-0 contro la Provercelli. Decisiva la rete di Comi. Vincente con un poker anche il San Giuliano City ne ho promosso Lega Pro, con doppietta personale di Tommaso Morosini, fratello di Leonardo, con un passato all'Avellino. Un girone A che dunque ha già presentato delle rivelazioni. Spostandosi nel raggruppamento B, arrivano i gol di giornata. Nel primo con Rizzopina, che si presenta alla Lucchese con un gol da Cineteca, ma non basta. La Reggiana vince 2-1. Gli fa ego anche Tascone con la Virtus Entella. La curiosità di giornata, entrambi lo scorso anno, hanno giocato nel girone C. Uno al Foggia, l'altro alla Turris. Buona la prima di Piero Braia, che batte 2-0 l'Aquila Montevarchi. Una vittoria da Marcord per il tecnico ricorsito, visto che con la formazione bruzzese ci ha vinto un campionato. Parte male l'avventura di Toscano sulla panchina del Cesena. La Carrarese vince 2-1. Gol da Cineteca per Bonsai. Nel prossimo turno, derby tutto romagnolo con i Rimini. Tra i numeri e curiosità, scendendo nel giorni C, che tocca da vicino l'Avellino, la Palma d'Oro Val Giuliano. Prima vittoria storica in Lega Pro, ma soprattutto 150esimo gol per l'immortale Pifferaio Federico Piovaccari.